Consigli e conferenze per prevenire debolezza e raggiri l'esperienza dell'arma dei carabinieri nelle scuole della regione. Sono state fatte anche attività di comunicazione proprio all'interno delle scuole. Ecco, i giovani ancora oggi possono vedere le istituzioni come un ostacolo. È molto importante andare nelle scuole, è molto importante anche fare queste interviste, è molto importante parlare con i ragazzi perché siamo stati tutti giovani. Io ricordo che quando andavo a scuola vennero i carabinieri e ne rimasi affascinato, tanto che eccomi qua. Ma spesso non si sanno le opportunità che si possono avere, spesso non si conosce cosa fanno alcune istituzioni. Quindi l'andare nelle scuole e parlare con i ragazzi serve non solo per far conoscere altri mondi, altre realtà lavorative, professionali, ma serve anche comunque a veicolare un'esperienza che si fa tutti i giorni sul campo e che ci fa vedere con gli occhi delle nostre persone, delle nostre uniformi, situazioni le più brutte a volte che magari un ragazzo non le valuta, non le pensa, non le conosce. Quindi lo stare vicino ai ragazzi, alle persone, ma a tutti, noi facciamo non solo conferenze alle scuole per i ragazzi, ma facciamo anche conferenze agli anziani per il fenomeno delle truffe, ci sono tante truffe agli anziani, cioè ultimamente sono anche aumentate molto, ne abbiamo scoperte tantissimo, ma c'è anche la tendenza ad approfittarsi della debolezza delle persone. Allora la debolezza può essere nelle persone anziane, ma può essere anche nei giovanissimi. Noi dobbiamo cercare, sia per le persone anziane che per i giovani, di dare il nostro apporto di esperienza, di consiglio e anche di sostegno. Questo noi lo stiamo facendo, ne siamo contentissimi e spero che il cittadino e tutti coloro che abbiano bisogno anche solo di parlare o di avere un'informazione vengano anche da noi, perché noi siamo sempre aperti e sempre disponibili.